L'incidente è questa sera, martedì 12 febbraio, poco prima delle 18, sulla strada provinciale 1 a Robassomero. A scontrarsi due vetture, una Toyota Yaris Versus con a bordo due genitori e una bimba e una Citroen C3 condotta da una donna. Sul posto sono appuntamenti intervenuti i vigili del fuoco di Nole, le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Verde di Ciriè, i carabinieri di Ciriè e il nucleo radiomobile di Venaria Reale. Tutti e quattro gli occupanti delle vetture sono stati trasportati all'ospedale di Ciriè lievemente feriti, ma nessuno in gravi condizioni. Ha certamente in corso da parte dei carabinieri sulla dinamica dell'incidente. Grazie. 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 Grazie.